Oggi ti presento il webinar di didattica inclusiva, esempi pratici. All'interno di questo webinar vedremo appunto delle modalità di sviluppo di una didattica inclusiva. Partendo dal presupposto però, quando parlo di didattica inclusiva non parlo di una didattica mirata all'alunno con disturbo dell'apprendimento o con un DHD o con un altro disturbo evolutivo, bensì di una modalità di fare lezioni che sia unica ma che sia sufficientemente efficace ed efficiente da coinvolgere tutta la classe del docente. Nello specifico all'interno del webinar parleremo di modalità didattiche e di strategie comunicative utili all'interno della classe. Grazie a tutti!